La Fiera di Padova Ma il mercato patavino rispecchia le due grandi vocazioni d'Italia, quella rurale e quella artigiana. Le ceramiche, anche se in sagome nuove, perpetuano il garbo dei disegni, l'eleganza degli smalti e dei colori. Padova, capitale agricola, capisce queste macchine, questi trattori dalle ruote indipendenti, come le gambe dei suoi cavalli.